Davanti alla commissione d'esame ha portato un simbolo della rianimazione miracolo che ha contribuito a salvare anche alcuni pazienti covid. Per chi come lei sogna di fare la differenza nel mondo della salute, si tratta di un emblema dell'evoluzione sanitaria. La piacentina Allegrarata, 24 anni, si è laureata con una tesi sul cosiddetto ECMO, acronimo inglese dell'ossigenazione extracorporea a membrana. La studentessa del San Raffaele di Milano ha scelto di approfondire questa tecnica perché crede che sia il futuro della medicina. Questi macchinari sono una novità in Italia, mentre sono già molto studiati all'estero e rappresentano secondo me il futuro della medicina. Mi sono focalizzata principalmente sul ruolo delle piastrine. All'interno di questi tubi, di questi macchinari, il sangue scorre direttamente estratto dal paziente e gli eventi trombotici ma anche emorragici sono molto frequenti. Per questo motivo l'attività delle piastrine deve essere ancora investigata in modo molto approfondito ancora. L'ECMO è infatti riuscito a strappare alla morte. Fra gli altri, il 18enne è ricoverato lo scorso marzo proprio al San Raffaele di Milano. Un giovane sano e senza patologie pregresse, stretto nella morsa del coronavirus e sottratto al pericolo grazie all'innovativa macchina per la circolazione extracorporea. dimostra che il mio interesse comunque avrà anche nel futuro un ruolo attivo anche appunto come abbiamo visto per quanto riguarda le malattie infettive. Arata ha avuto modo di approfondire il metodo di ossigenazione extracorporea anche durante un'esperienza negli Stati Uniti all'Università dell'Arizona nei mesi di febbraio e marzo in pieno lockdown da coronavirus. Purtroppo sono dovuta tornare prima, sicuramente ci tornerò. Arata è stata costretta a tornare in anticipo a Piacenza per prepararsi all'esame di laurea in programma giugno. Una prova finale conclusa con successo con il voto di 110 elode. La fusione tra l'ingegneria e la medicina sarà sempre più importante e avrà un ruolo fondamentale nel supporto del paziente.